L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Speria TV. Non si aspettavano la reazione, per questo non hanno saputo reagire. I due autori si sono costituiti ai carabinieri. Pasce e tricolori, 28 sindaci del Soveratese, tanta gente come a Castrovillari per manifestare contro l'invasione russa. Sette in carcere, due ai domiciliari fermata alla locale di Stilo, il boss Pasco la Capre, ma fa anche traffico di cocaina. Quante volte ci diciamo che l'8 marzo deve essere tutti i giorni, ma solo l'8 marzo seguiamo iniziative e manifestazioni. L'idea non è superata, anzi il ministro delle infrastrutture Giovannini a Messina rilancia l'attraversamento stabile dello stretto. Benvenuti a questa edizione del nostro giornale. La cronaca oggi è d'obbligo, un'apertura ieri sera, tardo, tardissimo pomeriggio, probabilmente un contenzioso di una scena, anzi probabilmente, assolutamente no. Sicuramente un contenzioso molto rilevante, un'aggressione e poi chi viene aggredito di fatto sorprende chi ha aggredito e stavolta spara. Uno muore, gli altri due sono feriti. Ancora sangue nelle strade, bossoli sull'asfalto, immagini che non arrivano dai teatri di guerra ai confini dell'Europa, ma dal pieno centro di La Mezzia Terme. Si torna a sparare ad uccidere, sei anni dopo l'omicidio dell'avvocato Francesco Paiuso, questa volta a finire sotto i colpi il 52enne Luigi Trovato, considerato vicino agli ambienti di indrangheta. Era stato assolto in Cassazione dopo essere stato coinvolto anche nell'operazione Perseo contro la cosca Giampà. L'omicidio ieri sera intorno alle 19 nella centralissima piazza Porcelli, illuminata dalle vetrine dei bar e dei negozi, non lontana dal tribunale. Due persone hanno sparato contro l'auto in cui si trovavano Luigi Trovato insieme al fratello Luciano di 37 anni e un amico, il 34enne Pasquale D'Angela, anche loro finiti sotto il fuoco degli aggressori e rimasti feriti in modo grave. Sono stati ricoverati nell'ospedale di La Mezzia Terme e non sarebbero in pericolo di vita imminente, anche se i sanitari si mantengono cauti. Sembrava un agguato in piena regola, compiuto da due killer che poi si sono dileguati in auto. Nessun contributo utile è stato fornito agli inquirenti, dai testimoni, dai titolari dei negozi, dalle numerose persone che si trovavano nel momento dell'agguato in piazza Porcelli, una zona di intenso passaggio molto frequentata anche nelle ore serali. Dopo due ore la svolta, quando due trentenni considerati vicini ad ambienti criminali cittadini, Antonio Monteleone e Claudio Paola, sentendosi braccati, hanno bussato alla porta dei carabinieri di La Mezzia per costituirsi e accusarsi del delitto, i due sono stati arrestati. Le indagini svolte dai carabinieri con la collaborazione della Polizia di Stato e sotto le direttive e della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro hanno consentito di accertare dinamica e movente del fatto di sangue, escludendo che si sia trattato di un agguato come si era ipotizzato in un primo momento. L'episodio sarebbe da collegare a contrasti tra le vittime e i loro rivali, motivati presumibilmente da questioni legate ad interessi criminali. I fratelli Trovato e D'Angela, secondo una prima ricostruzione da parte degli investigatori, si sarebbero incontrati con Monteleone e Paola in piazza Porcelli. A poche decine di metri dal Palazzo di Giustizia avrebbero avviato una discussione che è poi finita nel sangue. I fratelli Trovato avevano aggredito i due trentenni e sarebbero poi rimasti sorpresi dalla loro reazione, non avendo il tempo nella possibilità di rispondere al fuoco. Fascia, tricolore e fiaccola accesa in mano. Ci sono tutti i 28 sindaci dell'ambito di Soverato, sfilano tra centinaia di persone. La folla chiede la fine della guerra, sventolano le bandiere della pace e quelle dell'Ucraina e a confondersi non sono solo i colori delle due nazioni, ma i due diversi idiomi che recitano il Padre Nostro sul sagrato della parrocchia di Soverato, tappa finale della fiaccolata. La comunità ucraina che vive nel territorio dice grazie a Soverato, città che ancora una volta non si dimostra indifferente e tende la mano dell'accoglienza ai profughi di guerra che aspetta di poter ospitare. Siamo qui perché è necessario essere tutti uniti innanzitutto in questa manifestazione di solidarietà al popolo ucraino. Poi ci coordineremo ovviamente per la raccolta fondi e anche per accogliere molte persone che stanno fuggendo da una situazione drammatica. La Calabria è la regione con più presenze ucraine e quindi siamo direttamente coinvolti. Speriamo che tutto finisca presto e che si possa tornare alla normalità. Noi dobbiamo essere veramente ancora di più come popolo italiano vicini all'Ucraina, vicini a cui oggi sta soffrendo e questa sera lo stiamo dimostrando con la nostra presenza ma ancora di più con le nostre azioni, pronti ad accogliere i profughi che stanno lasciando la loro casa per poter uscire fuori da questa grande tragedia. È bello vedere l'ambito di Soverato con tutti i sindaci del comprensorio riuniti. Si distingue sempre quando si tratta di rimboccarsi le maniche e darsi da fare. C'è stata già una riunione operativa su come accogliere tutte queste persone che arriveranno insieme agli amici ucraini, a Soverato, vicino a Lungomare per questa fiaccolata e per esprimere la vicinanza e la solidarietà verso questo popolo che sta subendo purtroppo questi gesti così violenti e brutti che nel 2022 insomma sembra assurdo soprattutto agli occhi dei nostri bambini riuscire a spiegarglielo. Ed è successa la stessa cosa praticamente più o meno nelle stesse ore anche a Castro Villari. Una fiaccolata per esprimere il proprio dissenso alla guerra in Ucraina, il silenzio contro il rumore delle bombe. Siamo contro la guerra, è un piccolo segnale ma pensiamo che far acquisire consapevolezza ai giovani, i veri costruttori del futuro sia necessario e importante. Questo può essere un piccolo gesto magari per l'Ucraina ma vuol dire tanto per l'umanità intera. Siamo contro la guerra assolutamente, in ogni forma, che sia in Ucraina, che sia in qualsiasi altro paese. A Canal Greco, a Castro Villari, si sono radunati gli studenti del Mattei, Pitagora, Calvose e quelli dell'ITIS, Enrico Fermi, cittadini, associazioni, amministratori locali. Noi saremo presenti a ogni manifestazione che sarà vicina al popolo dell'Ucraina e perché no, anche alle tante vittime della Russia, perché poi le vittime non hanno nazionalità ma sono tutte vittime del mondo, del nostro mondo. E i colori dell'Ucraina in una grande bandiera sorretta dagli stessi studenti, una voce che unisce amore e dolore per questa terra devastata dalle bombe. Leggendolo sempre sui libri di storia ci è sempre, diciamo, sembrato una realtà molto lontana e vederlo, diciamo, sentirlo sulla nostra pelle è veramente forte, forte. È molto destabilizzante anche perché usciamo da quasi tre anni di pandemia, quindi è veramente qualcosa di... noi aspettavamo solo la luce e adesso ci stiamo diventando in questo buio. Anche come dice Papa Francesco è una pazzia. Insieme al freddo che abbiamo stasera immaginiamo quanto freddo possono avere i ragazzi e i bambini in Ucraina in questo momento. Fiaccole, per dire no, alla guerra. Cessino le armi perché la vita deve andare avanti e dobbiamo creare positività. Torniamo alla cronaca, una intimidazione ai danni dell'assessore all'urbanistica del comune di Crozia Giovanni Greco al quale è stata incendiata l'automobile. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Greco, non si esclude che il movente dell'incendio sia da collegare all'attività politico-amministrativa svolta da Greco. In una nota firma del sindaco Antonio Russo e della Giunta si esprime preoccupazione per quanto è accaduto, si lancia un appello al prefetto per intensificare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine sul territorio comunale. È stata convocata una riunione straordinaria di Giunta per fare sentire forte la vicinanza all'assessore greco. E sempre a proposito di amministratori locali. Per la verità da estate 2019 il comune di Stilo è stato sciolto proprio per infiltrazioni mafiose, ma quel sindaco e anche un consigliere comunale di opposizione hanno subito anche delle intimidazioni. Da parte di chi? Da parte di questa nuova locale di Indrangheta che ha visto protagonista, che vede protagonista una famiglia, la famiglia Spagnolo, che pascola capre ma evidentemente traffica anche in cocaina. Un nuovo locale di Indrangheta attivo e confederato alla cosca dei taverniti di Girocarne è stato scoperto a Stilo, nella Locride, nell'ambito dell'inchiesta doppio sgarro condotta dai carabinieri e coordinata dalla distrettuale di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Bombardieri e dell'Aggiunto Lombardo il GIP ha emesso nove ordinanze di custodia cautelare, sette in carcere e due ai domiciliari. I reati contestati sono associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di droga. L'inchiesta ha consentito di accertare ruoli e gradi degli affiliati, per lo più membri della famiglia Spagnolo, che sarebbe a capo della nuova locale di Indrangheta. Tra gli indagati c'è anche Giorgio Domenico Candido. Candido sarebbe il mandante delle minacce lanciate al nipote, Vincenzo Sorgiovanni, ex consigliere comunale di minoranza del comune di Stilo. L'obiettivo era quello di condizionare le scelte di Sorgiovanni in modo da non farlo votare con la maggioranza del comune di Stilo. L'ente nel maggio 2019 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. L'anno prima la casa di campagna dell'ex sindaco Giancarlo Miriello era stata distrutta da un incendio il cui responsabile, secondo i carabinieri, sarebbe proprio il boss, Fernando Spagnolo, che voleva costringere il sindaco di Stilo a non proseguire azioni di repressione contro gli allacci abusivi alla rete idrica. Il boss e suo fratello Ilario Spagnolo erano soliti far pascolare le loro capre nei pressi di un antico castello medievale in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e considerata la principale attrazione turistica del centro storico di Stilo. L'inchiesta ha fatto luce su un traffico di cocaina e marijuana a Placanica, Stignano, Caolonia e Pazzano. 8 marzo dunque, fra l'altro ci sono anche dei dati oggettivi che ovviamente poi ci portano a fare una riflessione. Intanto nel quadriennio 2018-2021 si registra un calo dei femminicidi, ma c'è anche un aumento dei cosiddetti reati spia, parliamo di stalking, maltrattamenti e anche di violenze sessuali. Questo emerge da un'analisi della direzione centrale della pulizia criminale. Gli omicidi volontari di donne nel 2021 sono stati ben 119, nel 2018 erano stati 141. Rispetto al 2018 i dati del 2021 indicano invece un aumento per i reati di stalking, maltrattamenti contro familiari e conviventi ed anche violenza sessuale. E oggi, proprio per fare riflettere un po' tutti, c'è stata anche un'iniziativa in Piazza della Resistenza a Crotone che ha seguito per noi Luigi Saporito. Anche oggi, in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale dedicata alle donne, la direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato ha voluto far sentire la propria vicinanza alle cittadine e ai cittadini italiani, con la distribuzione in tutte le piazze della brochure dal titolo «Questo non è amore», con l'impegno ad informare in modo semplice e lineare le vittime di violenza di genere e a divulgare la cultura della prevenzione. Le donne e gli uomini della Polizia erano presenti anche a Crotone, in Piazza della Resistenza, con un camper per la distribuzione del volantino informativo. Il messaggio oggi è un po' più ampio, diciamo una platea più ampia perché oggi l'8 marzo la festa della donna è un giorno in cui comunque si rinnova l'appello della Polizia di Stato contro la violenza nei confronti delle donne, ma in questo momento ha un significato anche più ampio considerando i fatti che in questi giorni stanno caratterizzando il panorama internazionale ed è un appello contro la violenza non solo alle donne, ma anche un ripudio alla guerra e quindi alla violenza in generale. Noi cercheremo di veicolare attraverso questo buscolo che comunque viene denominato Questo non è amore, che è la campagna nazionale della Polizia di Stato contro tutte le forme di violenza di genere. Naturalmente l'appello è qualsiasi sia il minimo segnale denunciato. Assolutamente sì, la Polizia di Stato per questo è dotata di una parte del camper che comunque durante il corso dell'anno effettua parecchie tappe anche in comuni della provincia di Crotone, ma di un ufficio che è l'ufficio Minori, che è deputato alla raccolta anche in maniera assolutamente privata, assoluta discrezione di tutte quelle che sono i segnali che possono essere appunto comunicati da una donna all'interno della famiglia, nel rapporto di coppia, nel rapporto sul luogo di lavoro eccetera. Presente anche Filippo Linzi, assessore alle politiche sociali del Comune di Crotone. Doveroso essere qui, la Questura, ancora una volta la Polizia di Stato si conferma, insomma vicino alle donne e alle fragilità comunque in genere. Diciamo che è una giornata un po' sotto tono quella che viviamo quest'anno per le vicende che purtroppo a pochi passi da noi si stanno sviluppando in Europa. Io mi sento particolarmente vicino alle donne ucraine, anche alle donne russe che sicuramente non vogliono questa guerra e vicina a tutte le donne che comunque non vivono in situazioni facili la loro vita. Sappiamo però che ci sono tante donne impegnate nella polizia, nelle istituzioni, nella vita di tutti i giorni e a quelle insomma dobbiamo guardare come simbolo di rinascita e di speranza. Ecco appunto essere vicini alle donne, a tutte le donne, pensate che il gruppo di cui fa parte Speria TV, il gruppo Marrelli come penso molti di voi sanno, per il 72% è fatto da collaboratrici, quindi insomma fino al massimo livello, il presidente di questo gruppo è Donna Anchella evidentemente, tant'è che scherzando insomma pensiamo in realtà più che ha le quote rosa, ha le quote azzurre all'interno del gruppo, ma al di là di questo ecco che cosa si può, in che maniera concretamente si può essere vicini alle donne, per esempio la clinica Marrelli Hospital, sentite e guardate che cosa ha messo a disposizione, qual è diciamo ecco il suo modo di testimoniare vicinanza concreta all'altra metà del cielo. Sono donne che hanno affrontato la malattia, che continuano a combattere e ne escono dalla malattia, proprio perché sono donne. Poi abbiamo qui una dottoressa, un medico donna, che significa tutto, accoppiare la sua femminilità alla sua professione. Abbiamo fatto una gran cosa qui a Crotone, abbiamo in 5 anni, questo è il sesto anno che il centro funziona, abbiamo visitato circa 13.000, 14.000 donne, il che significa avere fatto una rivoluzione culturale solo con la prevenzione, solo volendosi bene in un target di due volte all'anno, una vista senologica e ripeto in un centro di senologia. Oggi il tumore della mammella si guarisce, condizione sine qua, non riusciamo a intercettarlo entro determinate dimensioni con le regole che ho appena detto della prevenzione. Bisogna soprattutto sensibilizzare le donne a fare le visite periodiche, cioè quella che è la cosiddetta prevenzione secondaria. Cosa significa prevenzione secondaria? Riuscire a diagnosticare precocemente quello che è il tumore alla mammella. È una mammografia annuale nella fascia d'età che va dai 40 a 50 anni, dai 50 ai 74 anni la mammografia ogni due anni. Che cosa significa diagnosi precoce? Riuscire a fare diagnosi con gli esami strumentali e la visita già nella fase pre-sintomi. Dobbiamo volerci più bene due nonne e riuscire comunque ad avere sempre l'appuntamento regolare, periodico a fare questi controlli. Prevenzione è voler bene, voler bene a noi stessi e voler bene alle persone che ci stanno vicino, obbligandoli in alcuni casi a fare prevenzione. Io sono una di quelle che non l'ha fatto. Potevo rimanere per sempre a una 47 anni, sono a 50, ma il prezzo è stato duro. Purtroppo ho subito una mastectomia radicale per cui il percorso è stato più lungo e non è stato facile assolutamente mettermi davanti allo specchio e riguardarmi. Stavo nutriendo un nodulo che è diventato troppo grande per poter servare tutto, perlomeno abbiamo salvato ma si può ricostruire. Una protesi non aiuta sempre, però la bellezza è quella che troviamo dentro di noi e nella vita che ci circonda, non è il seno che fa la differenza. Si può essere bella a prescindere, se sta bene dentro, se è bella in qualsiasi modo. Complimenti ancora al professore Torchia. Non abbiamo ancora finito, andiamo a Catanzaro con Antonio Capria. L'8 marzo un'occasione per ricordare gli enormi sacrifici compiuti dalle donne lavoratrici che devono lottare per vedersi riconosciuti diritti e che a parità di lavoro subiscono ancora le limitazioni dovute alla disparità di genere. L'Associazione Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro quest'anno ha voluto porre l'attenzione in particolare sulle conseguenze che i due anni di pandemia hanno prodotto sulla condizione lavorativa delle donne, ancor più chiamate a conciliare i tempi del lavoro con la cura della famiglia, dei figli, degli anziani, dei familiari non autosufficienti. Alle lavoratrici calabresi l'ANMIL regionale ha voluto dedicare un momento di riflessione alla cittadella per rimarcare come il Covid-19 nei settori della sanità e dell'assistenza sociale abbia colpito in maggior numero le donne, tanto che di 2615 il numero degli infortuni denunciati dalle donne in Calabria. L'ANMIL si sta attivando facendo dei corsi di formazione e prevenzione sui luoghi di lavoro, però secondo me non basta questo perché purtroppo tendono sempre ad aumentare. Quindi il nostro auguro è quello che questi infortuni, sia incidenti mortali e malattie professionali tendono a scendere. Il nostro auguro è proprio questo. I momenti critici, come la storia ci insegna, danno sempre per contrappeso dell'inputo per la ripartenza. Oggi quindi dobbiamo cogliere l'occasione che ci viene data dal PNRR che dedica proprio una missione sul lavoro femminile, quindi dobbiamo essere preparati a sapere sfruttare questa occasione e a dare una svolta a quella che è un deficit occupazionale del mondo femminile alle nostre latitudini. Sono state le testimonianze di lavoratrici in prima linea contro la pandemia a dare contezza della forza inarrestabile delle donne che non arretra neanche davanti alle situazioni di pericolo. Noi da un punto di vista femminile corriamo diversi rischi, soprattutto perché il nostro è un duplice lavoro, nel senso che lavoriamo sì in reparto ma lavoriamo anche a casa perché comunque dobbiamo badare ai nostri figli, dobbiamo badare ai mariti, alle nostre famiglie e quindi in questo caso la stanchezza dei turni di lavoro strazianti possono poi condurre a delle situazioni un po' tragiche come nel caso in cui abbiamo visto di infermiere che purtroppo finendo i loro turni strazianti hanno avuto degli incidenti stradali e hanno perso la vita. Il progetto, anzi meglio ancora, del ponte sullo stretto di Messina non è stato accantonato, intanto il governo lavora per rendere più green e veloce l'attraversamento del tratto di mare tra Sicilia e Calabria. L'ha detto il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a Messina dove ha inaugurato la nave Iginia della flotta di reti ferroviarie italiane che è dotata di propulsione green per il collegamento tra Calabria e Sicilia. Il traghetto entrato in servizio oggi proprio a RFI è stato affidato lo studio di fattibilità per analizzare i diversi aspetti. RFI ha mandato un primo cronoprogramma in maniera tale da procedere all'avvio poi dello studio di fattibilità del ponte sullo stretto di Messina. Sono più di due mesi che ci sono praticamente 18 bare in deposito a Castrovillari in attesa di essere tumulate. Sono 18 le bare che da oltre due mesi aspettano una degna sepoltura al cimitero di Castrovillari. I familiari dei defunti non riescono a portare un fiore sulla tomba dei loro cari e oltre alla sofferenza della perdita c'è la sofferenza di non riuscire a trovare la giusta collocazione. La situazione è dovuta alla mancanza di loculi ma è pur vero che nel nuovo cimitero due lotti dovevano essere consegnati a gennaio 2022. Allora cosa è successo? Purtroppo registriamo questo ritardo nella sepoltura. Stiamo seguendo in maniera davvero maniacale i lavori che sono presenti nel cimitero nuovo con la consegna che doveva essere già stata fatta il 14 gennaio se non erro. Purtroppo per le condizioni pessime del tempo in quel periodo un po' il covid perché l'impresa è stata colpita da gente che purtroppo ha avuto il covid e tecnicamente anche perché uno scavo si è dovuto protare oltre il metro e 80 perché è stata trovata terra che non era consona alle fondazioni. Vogliamo terminare al più presto e si parla di un'altra manciata di giorni il lotto A e dare degna sepoltura a queste 18 salme che sono in attesa. Possiamo prendere un impegno come diceva prima lei che entro fine mese riusciremo a dare degna sepoltura? Sicuramente sì, stiamo sopra all'impresa, stiamo sopra alla direzione lavori tutta affinché per fine mese sicuramente daremo sepoltura. Posso dire che sicuramente svuoteremo la camera ardente che è presente al cimitero. Grazie alle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza delle attività commerciali lungo Corso Mazzini è stato individuato il responsabile della distruzione della targa commemorativa di Piazzetta Libertà in memoria di Giuseppe Malacaria, l'operaio ucciso il 4 febbraio 1971 nel corso di una manifestazione antifascista. Le riprese hanno accertato che alle due e mezza di notte tra il 4 e il 5 marzo un uomo incappucciato ha forzato i fermi della targa per poi buttarla a terra provocandone la rottura. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato. Da Catanzaro città invece al porto di Lido perché oggi c'è stata come vedete peraltro dalle immagini la manifestazione quindi di fatto i pescherecci della marineria di Lido non sono usciti in mare sarà così anche per i prossimi giorni una decisione importante perché c'è il caro gasolio che non permette più di sostenere l'attività di pesca e quindi il comparto decide di fermarsi si era già fermato nelle ultime 24 ore praticamente in tutta Italia bisogna attendere adesso domani questo incontro al Ministero per vedere se è possibile far entrare anche il comparto della pesca tra quelli che vedranno un sostegno nel prossimo decreto altrimenti dicono i pescatori continueremo a stare a terra così non possiamo più lavorare i costi superano di gran lunga i nostri guadagni. Visto che siamo in mare però veniamo al porto di Crotone perché? Perché Alfa 21 stamattina ha presentato anche la nuova stagione di attracco delle grandi navi a Crotone insomma sono decine e decine e soprattutto ci sono più di 30.000 potenziali turisti per 9 mesi di attività. Questa alle mie spalle è la Viking Sky che ha attraccato questa mattina al porto di Crotone la prima nave di una stagione crocieristica che si preannuncia veramente importante e interessante ne vediamo i motivi. La prima è ormeggiata nel porto di Crotone ma è la prima di 31 navi che da ora fino a novembre arriveranno sul nostro territorio, una ricaduta economica importantissima. La prima di 31 rappresenta un bel risultato per il territorio frutto di un lavoro che sta durando da tanti anni e che viene premiato dal scelte delle compagnie quest'anno sono 8 le compagnie che arriveranno in porto porteranno circa 32.000 passeggeri andremo a toccare tre province con le nostre escursioni quindi diciamo che la ricaduta comincia a essere interessante. Oggi 500 turisti che sono stati già veicolati in più parti del territorio qualcuno andrà in Sila a vedere la neve qualcuno invece magari andrà a vedere qualche vestigia antica del nostro territorio Le escursioni si distribuiscono in tutto il territorio come detto prima ieri sono stati per esempio sull'Etna oggi saranno appunto nel nostro territorio purtroppo sono molto abituati al freddo gente che addirittura va in giro in mezze maniche mentre noi lo stiamo soffrendo però stanno apprezzando la nostra città l'offerta turistica che riusciamo a mettere sul piatto Alle spalle c'è un grande lavoro però Lavoro che vede tante persone che sono coinvolte organizzazioni di vario tipo dal settore della ristorazione al settore della movimentazione attraverso bus persone che si stanno misurando nell'accoglienza turistica dando il loro contributo e man mano stiamo riuscendo anche a risolvere problemi che arrivano da carenze strutturali 31 navi, 32 mila passeggeri il 2022 sarà l'anno del rilancio del comparto crocieristico che vede coinvolti molti soggetti a fianco di Alfa 21 che da anni lavora in questo segmento un traffico di 32 mila turisti che nell'arco di nove mesi alimenterà nel nostro territorio un giro di affari di quasi un milione e mezzo di euro Ci fermiamo, siamo andati molto lunghi grazie comunque per averci seguito adesso tocca a Smart Sport con Luigi Saporito che è tornato dal porto naturalmente ed è con noi e noi ci vediamo stasera alle 20.30